Eccomi ragazzi, eccomi, buonasera a tutti, buonasera a metà, buonasera a metà. Appena arrivato a casa, post lavoro, devo dire che comunque oggi è stata una giornata tra gioia e amarezze, perché comunque l'Inter ha vinto, non ho visto la partita, l'ho soltanto intravista a pizzichi e bocconi, ragazzi, però comunque sono contento per il momento che sta vivendo l'Inter, sono contento per la situazione che si sta creando comunque tra l'Inter, i tifosi, Antonio Conte, tutta la squadra che veramente sta girando bene, sono molto molto contento per il momento dell'Inter, venendo al Benevento, venendo al Benevento, raga, perde col Napoli, parto dal presupposto che ci può stare a perdere col Napoli, perché il Napoli è una squadra superiore, il Napoli è una squadra che comunque finora gli mancava veramente tanti giocatori, ora hanno recuperato Mertens e stanno recuperando comunque tutti gli altri, Goulam, Koulibaly, Demme, ora rientrerà Petagna, rientrerà Ozyman, stanno trovando la condizione tanti altri giocatori, Fabian Ruiz e via dicendo, però raga, come si fa a fare una prestazione come quella di Fulon? Cioè, come si fa a fare una prestazione in Serie A come quella di Adam Fulon? Di Adam Fulon, di Adam Fulon ragazzi, come si fa a fare una prestazione a livello professionistico come ha fatto stasera Fulon? A parte che a me tutta la stagione che Fulon proprio non mi piace, non mi piace, meno male che ora rientra Letizia, meno male che ora rientra Letizia perché io con Fulon veramente tutte le volte che gioca Fulon, io spero di che non attacchino da quella parte, ma chiaramente attaccano maggiormente di lì gli avversari perché sanno che Fulon è un punto debole per il benevento e meno male che ho preso anche De Paoli, così i terzini titolari saranno De Paoli e Letizia quando c'è anche Barbo può giocare a terzino, così almeno Fulon lo levamo, lo levamo perché veramente lo levamo dalle palle Fulon, perché veramente a me ragazzi non mi piace, stasera a un certo punto passavano tutti dalle parti Fulon, era veramente stasera, raga, non lo so che ha bevuto prima della partita, se al posto dell'acqua gli avrà dato la grappa, io non lo so che ha bevuto, se si è fatto un po' di grappini prima della partita, io non lo so, fatto star, raga, ha il gol del Napoli, ha il gol del Napoli, sono saliti tutti, sono saliti tutti e poi ho guardato il replay, chi c'era dietro? Fulon che guardava, guardava l'uccellini che passavano nello stadio Maradona, così, Fulon, Fulon che sta succedendo? Ha segnato il Napoli, aspetta che salgo, cioè dai ma come si fa in Serie A a livello professionistico ragazzi a fare una prestazione come quella di Fulon? Tutta la partita assente, completamente assente, a livello difensivo sbagliava, in fase di impostazione quando proponeva, in fase offensiva sbagliava il passaggio, sbagliava il controllo, partita disastrosa, disastrosa di Fulon, partita disastrosa, anche Tuya poi, anche Tuya ci ha messo del suo stasera, veramente complimenti al Napoli, ma al Benevento, raga, di sto passo, di sto passo la salvezza è tosta, è tosta perché ora il Cagliari vincerà diverse partite e risale, il Parma comunque è una buona squadra e poi risalì, te la va a giocare, te la va a giocare, c'hai lo Spezia che comunque è più in forma di noi, sta a giocare meglio di noi, lì c'è, poi c'è il Bologna è più forte di noi, la Fiorentina è più forte di noi ragazzi, è difficile, è difficile, è difficile, il Torino anche lì vicino ha 5 punti, il ragazzo con la partita a meno tra l'altro, con la partita a meno il ragazzo è preoccupato, sono preoccupato perché è vero che comunque anche il Parma è a distanza di sicurezza, ma il Parma sulla carta, ora quando gli rientrano tutti i giocatori, è più forte del Benevento, è più forte del Benevento, almeno a centrocampo in attacco è più forte del Benevento e poi in difesa, visto comunque anche gli svarioni che sta a fa il Parma, se la giocavamo a cappelle col Parma in difesa, se la giocavamo a cappelle col Parma è a svarioni, fammo che è più umbriaco tra i difensori del Benevento e quelli del Parma perché è veramente ragazzi, allucinante, allucinante, sono preoccupato, sono preoccupato, ora cerco sempre di metterci la fase scherzosa, la fase scherzosa nei video, nell'analisi, ma sono veramente preoccupato, il Crotone, il Crotone ora non so che succederà, forse andrà via Stropp e quant'altro, penso che retrocederà perché comunque gli mancano proprio i giocatori, il Parma è lì lì che comunque è sempre lontano perché è una diecina di punti indietro, 10-11 punti, poi c'è il Cagliari con la vittoria di oggi, è a 7 punti ragazzi, a 7 punti, tocca a giocare tra l'altro col Cagliari, tocca a giocare tra l'altro col Cagliari, ritorno, tocca a giocare con tanti scontri diretti, ora sabato c'è la partita con lo Spezia, fondamentale, fondamentale e poi ancora quella col Verona, ma sinceramente quella col Verona ci credo poco, spero forse in un punto, spero forse in un punto col Verona che poi andassi a giocare quella con lo Spezia, ragazzi perché lì è veramente spartiacco quella partita lì, da dentro o fuori, se disgraziatamente non si vince o si perde contro lo Spezia la vedo veramente dura, la vedo veramente dura, è quasi non dico una chiamata di quelle proprio da dentro o fuori, ma quasi, bisogna assolutamente vince, bisogna assolutamente vince contro lo Spezia, sono già focalizzato lì, so che prima c'è la partita con il Verona, però io onestamente una vittoria col Verona ci credo poco, magari si vincesse col Verona, però onestamente ci credo poco e so preoccupato, so preoccupato in questo momento perché vedo un Benevento in difficoltà, poi con questi svarioni difensivi, meno male che ora recuperiamo appunto Letizia che è un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda l'Inter ragazzi vi dico un attimino due cosette in questo video, sono molto molto contento, sono molto molto contento, il periodo sta andando veramente bene, la squadra sta girando, Antonio Conte ha trovato veramente la quadra inserendo Eriksen che sta giocando veramente molto bene, ti dà quella qualità che mancava a centrocampo, tutti gli uomini girano, Lukaku veramente devastante in un periodo di forma molto molto importante, la difesa è solida, Andanovic si è ritrovato fortunatamente, anche Barella e Brozovic stanno giocando veramente bene, però il giocatore che mi sta stupendo di più in questo momento dell'Inter è Perisic, che veramente sta facendo delle partite molto molto importanti lì sulla fascia sinistra, nonostante si dava comunque un Perisic in difficoltà fuori ruolo, però devo dire che comunque si è adattato molto bene anche lui e sono molto molto contento per il momento dell'Inter, sono contento anche per il gol oggi di Darmiano, veramente se lo merita, se lo merita, se lo merita. Ragazzi ditemi la vostra su Inter e Benevento, la lotta a Scudetto sarà lunga ragazzi, la lotta a Scudetto sarà lunga e sarà tortuosa, e sarà tortuosa soprattutto la lotta a salvezza per il Benevento, spero bene, spero bene, spero bene sia per l'Inter che per il Benevento, ma ci sarà da lotta fino all'ultimo ragazzi, ci sarà da lotta fino all'ultimo per entrambi gli obiettivi. Ditemi cosa ne pensate ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al vostro amico Burki. Ciao ragazzi!